Ben ritrovati, vi presento oggi un libro che a me è piaciuto molto, veramente tanto. Il titolo di questo libro è Al giardino, ancora non l'ho detto, è stato scritto da Pia Pera nel 2016, l'anno scorso, ed è pubblicato dalla casa editrice Ponti Alle Grazie. Pia Pera è morta l'anno scorso, in luglio, dopo aver dato alle stampe quest'ultimo libro. Lei era una docente di storia della letteratura russa all'università, mi sembra, di Trento, ha pubblicato, ha curato e pubblicato la traduzione di alcuni classici russi e si è in particolare dedicata lungo tutta la sua vita ai giardini. E infatti la parola giardino c'è dentro anche questo titolo, al giardino ancora non l'ho detto, ma in questo libro Pia Pera parla del giardino in un modo molto particolare. Beh, intanto veramente molto della sua produzione è stata dedicata alla scrittura di giardini, che è stata sempre una sua passione e di cui si è occupata anche a livello educativo e di, diciamo, a livello culturale in senso lato. Infatti ha anche istituito insieme ad altre studiose un sito che potete consultare, che si chiama Orti di Pace, www.ortidipace.org, in cui vengono presentati i giardini e gli orti come una grande occasione educativa per i ragazzi, per i bambini, ma anche per gli anziani, per le comunità, proprio utilizzando la formula del giardino, dell'arte del coltivare i fiori, le piante, come una modalità con la quale possiamo recuperare e ristabilire un rapporto positivo con la natura, ma anche un rapporto positivo tra le persone. E quindi l'orto, il giardino, con una valenza addirittura terapeutica. Ma veniamo al libro. Intanto questo titolo, Al giardino ancora non l'ho detto, è tratto dai versi di una poesia di Emily Dickinson, nella quale lei a un certo punto confessa di non avere ancora detto al giardino, a cui è molto legata, che a un certo punto lei non ci sarà più, se ne andrà. Ecco, e in queste parole Pia Pera ha una suggestione molto importante. Va detto che Pia vive una malattia molto grave, l'è stata diagnosticata alcuni anni fa, una forma di SLA che la porterà poi gradualmente alla morte. La SLA è una malattia progressiva, degenerativa, e lei la vive con molta intensità sulla propria pelle, ne fa oggetto di un diario che poi verrà invitata a trasformare in un libro. Questo è appunto il risultato di questo diario. Questi versi la colpiscono proprio perché c'è anche in lei, come in tutti noi, la paura della malattia, la paura del morire, e c'è l'imbarazzo anche a confessare questa cosa a chi ci sta più vicino. In questo caso al suo giardino, che a un certo punto non vedrà più, come tutti i giorni, arrivare il giardiniere che si prende cura di lui, e quindi diventa più difficile confessare a un certo punto questa specie di tradimento. Però nello stesso tempo il giardino e il giardiniere le riportano un'immagine, nell'immagine di Gesù risorto, che ricorda Pia, viene presentato la prima volta che compare alle donne dopo la risurrezione, in abito da giardiniere. Infatti lei dice, ma non è che Dio a un certo punto pensa che la risurrezione possa essere per l'umanità la possibilità di vivere sulla propria terra, trasformandola in un giardino di cui ci si deve prendere cura. Insomma, partendo da queste due immagini, lei si concentra su alcuni temi. Mi sono presa qualche appunto per essere più precisa. I temi principali sono il giardino, il giardiniere e la morte. Ma il primo passo è la malattia, perché è da lì che tutto parte. Questa donna a un certo punto, quando le viene diagnosticata in seguito a una serie di disturbi che diventano sempre più importanti, sempre più impegnativi, le viene diagnosticata la malattia del moto neurone, come lei la nomina nel libro, si rende conto che ha davanti un tempo che si restringerà sempre di più e ha davanti un'esperienza che la porterà ad avere la perdita progressiva di tutte le autonomie di cui, come ciascuno di noi, era abituata, a cui era abituata. Quindi pian piano perderà la capacità di fare le cose da sola, di vestirsi da sola, di camminare, di prepararsi da mangiare e quindi avrà bisogno sempre di più di cure. E questa malattia, da una parte, le fa cambiare il senso del tempo e la percezione anche della realtà in cui vive, per esempio anche la percezione del suo giardino. Lei dice, a un certo punto mi sembra che quello che è cambiato in me è il fatto che sia cresciuta l'empatia verso il mio giardino. È come se io avessi riconosciuto, stessi riconoscendo una sorta di fratellanza con i fiori, con le piante alle quali sono abituata. E poi questo sapere che la mia fine è prossima mi aiuta a pensare e ad aprire una riflessione su di me, sulla vita, sui rapporti con gli altri, sui rapporti con il tempo, che è una cosa molto preziosa. Mi fa paura, ma nello stesso tempo capisco che è una cosa molto importante. Vi leggo qualche parola. Quando a un certo punto un suo amico, un certo Francesco, un musicista naturalista, le dà una specie di... La illumina, le dà un'indicazione, le dice ma la cura di un giardino segue le stesse regole della cura del nostro giardino interiore, del nostro corpo, o meglio, dei nostri corpi fisico, emotivo, mentale. Guardando il tuo giardino si comprende chiaramente che sei riuscita a metterti in contatto con la sua anima, con il suo genius loci. Curare e coltivare se stessi è la medesima cosa. E osservando il modo con cui hai agito nel giardino puoi anche comprendere come dovresti agire quando il giardino è da curare. Si chiama Pia. E quindi lui dà a Pia l'idea che questa esperienza della cura del giardino sia un po' la metafora alla quale lei può attaccarsi per capire meglio come vivere questi ultimi anni che le restano da vivere. La sofferenza rimane, la paura anche. Lei dice la paura biologica. Tutti abbiamo paura della morte, tutti abbiamo paura della malattia e della sofferenza. Però c'è qualche cosa che ci può aiutare. Ecco che, allora, Pia afferma queste cose. Mi rendo conto di come siamo noi a scegliere di volta in volta, come vivere, quanto ci viene dato, questo imprevisto. A me la scelta tra farne un momento di frustrazione o uno spiraglio di libera contemplazione nell'ora forse più bella del giorno, sospesa com'è tra il buio e la luce. Lei dice, mi sento quasi una pianta tra le piante. Mi rendo conto che anch'io ho bisogno delle stesse cure che io per tanti anni ho dedicato al mio giardino. Oggi io vado a fatica, mi sposto tra le piante. Tenete conto che questo libro è costellato di nomi di fiori, nomi di piante, anche piante a noi sconosciute, rose, camellie, quelle che noi conosciamo di più, clematidi, gigli, tulipani, ranuncoli, frittillaria persica, sorbo, glicine, iris. A ogni pagina si incontra il nome di un fiore. Ma la cosa importante è come pian piano questa fratellanza che lei sta scoprendo con le piante l'aiuta a vivere questo suo tempo. La consapevolezza infatti della malattia che naturalmente non è un percorso lineare e tanto facile nemmeno per lei avviene gradualmente e passa anche attraverso momenti di grande rabbia, di grande frustrazione. Ma il fatto di poter lavorare su se stessa, di poter lavorare attraverso il proprio giardino, su se stessa, sul proprio giardino, aiuta questa donna veramente a trovare una consapevolezza che le permette di far, di accettare anche con lucidità quello che le sta succedendo. Vado un attimo a delle parole che mi sono sembrate molto importanti. Forse quando si tratta di morire il giardiniere non è più giardiniere, lo scrittore non è più scrittore, forse quando si tratta di morire arriva la consapevolezza del proprio essere indefiniti. E poi dice, non credo che andrò oltre con questo diario, le cose da fare ora sono pratiche, mettere in ordine le ultime disposizioni e quanto al giardino, semplicemente il luogo dove contemplare l'addio sarà forse più dolce, traendo forza dall'avere imparato ad amare in questi anni la vita che mi circonda. È un gran libro, un libro personale, un libro intenso, un libro struggente, un libro che va letto e riletto e va sottolineato in alcune parti che possono esserci utili, ma c'è anche molta speranza. Per concludere questo nostro incontro, questa nostra proposta, io vi voglio leggere due righe che Pia Pera dedica alla primavera. Siamo in primavera, anche se la primavera a volte ci riserva delle giornate di pioggia. E eccolo qua. E lei dice, A primavera la vita è spingere. I bulbi da sottoterra spingono per uscire alla luce del sole. Le gemme premono, escono dalla corteccia che si ammorbidisce per permettere loro di farsi strada, di trapassarle, di aprirsi. Le gemme spingono, spingono, disserrano le prime scaglie. Sul frassino somigliano a pugni rappresi che poi si allungano, si distendono in grappoli di fiori. Sul gesso sono tante piccole more verdi che forse si apriranno poi i piccoli fiori. Questa è la primavera, è la vita.